Musica Ecco il liceo più costoso al mondo, si chiama Istituto Le Rosé e si trova in Svizzera, è una delle scuole più esclusive del pianeta, con una retta di 100.000 euro l'anno, l'istituto dove studiarono il re di Belgio e il principe Ranieri di Monaco e anche il liceo più esoso tra vela, sci e rampicate. Musica